Stava attraversando via Bisurica quando è stato travolto dal passaggio di un furgone. Il grave incidente stradale è avvenuto oggi poco dopo mezzogiorno. Un 82enne piacentino, residente nella zona, stava camminando a piedi quando l'impatto con la parte anteriore del veicolo l'ha fatto sbalzare in aria. L'anziano ha sbattuto il capo con violenza contro il parabrezza e poi è caduto a terra, privo di sensi. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto serie. I sanitari del 118 hanno allertato l'eliambulanza che non è potuta giungere sul posto a causa della scarsa visibilità. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Piacenza. Ha riportato traumi in diverse parti del corpo. Versa in condizioni gravissime, vista la situazione, i medici hanno optato per l'intervento chirurgico. Il conducente del furgone, un 51enne piacentino, non ha riportato lesioni. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Municipale che stanno accertando la dinamica dello scontro.